Il sindaco Masce Perentorio e con l'assessore cremonese interviene sulla situazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il comune di Pescara dice ha preso da tempo in mano la situazione e ora ancora di più. Ieri lo sgombero della palazzina in costruzione di Via Trigno, oggi due strati in via caduti per servizio. Noi stiamo continuando un'attività che abbiamo svolto nei precedenti cinque anni e nei cinque anni abbiamo fatto almeno 60 sgomberi. Adesso abbiamo cominciato nuovamente con le decadenze di persone che hanno commesso reati, sono stati condannati, quindi per la legge regionale devono essere sfrattati. Noi ne abbiamo fatti due, la settimana prossima ne faremo altri tre e in tutto ne abbiamo già previsti, calendarizzati, una quarantina. Quindi tra quelli fatti negli anni precedenti e quelli in questi anni arriveremo presto a 100 sfratti per alloggi occupati da persone che non avevano titolo perché erano soggetti a decadenza. Noi concretamente portiamo avanti questa attività, sentiamo molte parole intorno agli sfratti, alle occupazioni, ma poi a noi piacciono i fatti e costantemente li mettiamo in atto. L'assessore all'edilizia residenziale pubblica, Alfredo Cremonese, ieri e oggi sono state due giornate molto particolari, perché? Sono state due giornate particolari perché ieri abbiamo proceduto allo sgombero di un palazzo Ater in Via Trigno e Via Tronto che era occupato abusivamente. Abbiamo tolto tutti coloro che erano dentro, una richiesta che ci facevano sia i residenti che i commercianti e abbiamo ristabilito ordine e pulizia. Da oggi ripartono gli sfratti, erano già iniziati con la precedente amministrazione e con l'assessore del Trecco e tutti coloro che appunto non avevano più titolo per stare nelle case popolari, da oggi sono ripartite le operazioni e per questo voglio ringraziare la Prefettura, la Questura, la Polizia Municipale e tutti coloro che ci stanno dando un aiuto concreto per fare in modo che si ristabilisca un principio di legalità, di correttezza e di serenità. In questo caso ringrazio l'assessore Cremonese che si è impegnato per fare in modo che tutta la procedura potesse trovare la sua conclusione come ho ringraziato Isabella del Trecco che nei cinque anni ha fatto un lavoro eccezionale. Continuiamo sulla stessa strada.